Il dottor Francesco Turco è candidato al Consiglio regionale pugliese con la Lega. Realizzeremo una serie di interviste per conoscere l'opinione del dottor Turco in merito a vari argomenti di competenza regionale. Ma in questo momento dobbiamo innanzitutto scoprire chi è Francesco Turco e quindi una presentazione e perché si candida con la Lega. Bene, io sono un medico, lavoro nel pubblico da 30 anni, da 33 anni con la precisione e lavoro nell'ospedale di Manduria come primario del pronto soccorso. Perché con la Lega? La Lega mi ha dato questa opportunità e questa opportunità l'ho colta al balzo per cercare di dare qualcosa per la sanità pugliese. Perché la Lega? La Lega oggi la vedo un partito nazionale decisionista perché il problema della politica è che non si decide e chi fa questa professione sa che oggi anche nella professione sanitaria la medicina difensiva fa dei danni. Per cui la Lega l'ho vista e so che è un partito dove si prendono delle decisioni. Le decisioni devono essere prese per forza altrimenti non si può andare avanti e questo è uno dei motivi della Lega. In più sono convinto anche che a livello nazionale potrà dare tanto a questa nazione e sono convinto anche che bisogna fare di tutto con questa elezione regionale in modo da incidere successivamente anche a livello nazionale. Con la vittoria in Puglia perché fitto vincerà questa elezione in Puglia. Io e il mio gruppo di Torricella con gli altri amici del versanto orientale e anche del versanto occidentale e anche di Taranto dobbiamo dare questo contributo affinché in questo momento venga a essere ribaltata questa situazione regionale che è stata dannosa per tutte le categorie. Lo faccio volentieri. Il mio primo obiettivo è quello di mandare a casa Emiliano. Il secondo naturalmente è quello di essere eletto come consigliere regionale.